Danni causati dai nubi fragili novembre, finalmente si interviene al via lunedì prossimi lavori di pulizia del torrente San Marco, ma sono pronti a partire anche gli interventi di protezione civile sugli altri corsi d'acqua. Politica, venti anni dopo si torna a parlare di emozione di sfiducia sciacca, a farlo è stata l'opposizione di centrodestra, nuovo capitolo di una contrapposizione durissima tra le parti che non fa sicuramente bene alla città. E alla politica è dedicata la nuova puntata di Vespera al Cinema, in onda da oggi su Telemontecronio. Si parlerà del boom della Lega di Salvini in Sicilia a Sciacca e delle ragioni di questo successo. La battaglia per l'ospedale di Sciacca, il Giovanni Paolo II dovrà avere le stesse se non più risorse del San Giovanni di Dio di Egrigento. Questo è l'obiettivo del Comitato Civico per la Sanità che ha programmato nuove iniziative. Anche alla città di Sciacca nella nuova guida turistica realizzata dal Touring Club e dall'Associazione Italiana Città della Ceramica. La pubblicazione sarà adesso presentata a Milano e in tutte le città della ceramica. Cultura, il Pirandello Dimenticato è il titolo del volume scritto a quattro mani dal nipote del drammaturga Grigentino e dal saccenza Alfonso Veneroso. Il libro è stato presentato ieri alla libreria Mondadori di Sciacca. Benvenuti a una nuova edizione di RMK Notizie. Al via la pulizia del torrente San Marco. I lavori progettati dal Genio Civile e finanziati dalla Regione per oltre 200 mila euro prenderanno il via lunedì prossimo e avranno una durata di circa quattro mesi. Ma sono pronti a partire di qui a qualche settimana gli attesi interventi di protezione civile per la messa in sicurezza dei torrenti Bagni, Can Saramone, Bella Pietra e Baiata. Ad annunciarlo al nostro telegiornale è il sindaco Francesca Valenti. Sentiamo. Inizieranno lunedì prossimo i lavori di pulizia del torrente San Marco. Si tratta di un'opera finanziata dalla Regione siciliana per oltre 200 mila euro, il cui progetto interamministrativo è stato curato dal Genio Civile di Agrigento. Si cerca di correre ai ripari, insomma, dopo i nubi fragi di novembre che hanno provocato notevoli danni al territorio a seguito dello straripamento dei corsi d'acqua. L'opera di pulizia del torrente San Marco, affidata ad un'impresa, avrà la durata di circa quattro mesi. Ma manca davvero poco ormai all'avvio anche degli interventi di pulizia bonifica e messa in sicurezza degli altri torrenti della città, quelli a suo tempo finanziati dalla protezione civile a seguito del nubi fragio di novembre 2016. Ad annunciarlo al nostro telegiornale, il sindaco Francesca Valenti. Ho sentito l'architetto Miciche che ha iniziato già le attività, ha iniziato già il lavoro. È un intervento importante, sicuramente consideriamo quello che è successo in questi eventi aglubionari, hanno riguardato moltissimo il torrente San Marco. E quindi speriamo che sia quantomeno un modo per fare una giusta e attenta prevenzione. Non è soltanto questo il lavoro che inizierà, perché devo dire che tutti quanti i lavori, sia quelli del genio civile che quelli che verranno fatti dalla protezione civile, sono tutti addirittura di arrivo. Quindi nel giro di qualche settimana vedranno gli interventi già attivi. Nello specifico, per ciò che concerne gli interventi di protezione civile, si tratta della sistemazione e pulizia del torrente Bagni per un importo complessivo pari a 375 mila euro, sistemazione e riduzione dei rischi idraulici sul torrente Bella Pietra, l'importo in questo caso ammonta a 200 mila euro, sistemazione del ponticello di Contrada Raganella che insiste sul torrente Baiata, 90 mila euro, e infine pulizia del torrente Can Salamone e realizzazione di una vasca di calma a servizio dello stesso per un importo complessivo pari a 490 mila euro. È considerata una priorità la nostra fragilità, non solo della nostra città devo dire, ma la fragilità del territorio siciliano ha acceso l'ascensione in maniera anche drammatica e tragica sul problema legato alla reggimentazione, alla polizia, e quindi considerato che è stato dato a priorità questi interventi verranno fatti veramente nel giro, inizieranno nel giro di qualche settimana, si spera non di mesi, ma si parla di settimane. Politica, vent'anni dopo si torna a parlare di emozione di sfiducia, a farlo sono stati quelli del centro-destra. È il nuovo capitolo di una contrapposizione politica durissima, che vede gli schieramenti darsele di santa ragione, con atteggiamenti diffusi, ancorché non generalizzabili, di superbia, presunzione ed orgoglio che non fanno bene alla città. La nota politica è di Massimo D'Antonio. Tra botte e risposta, repliche e controrepliche, e in seguimenti dell'ultima parola di qualcosa che assomigli lontanamente ad un microfono anche spento, il livello della contrapposizione politica sciacca ha forse raggiunto l'apice, ovvero la profondità, entrambi i punti di vista purtroppo sono validi. Niente di nuovo sotto questo cielo, intendiamoci, ma in assenza delle dirette televisive e dei consigli comunali, la politica oggi si gioca soprattutto su Facebook, dove i protagonisti della vita pubblica se le suonano di santa ragione, alimentando condivisioni e obiezioni di quel popolo social che non esita a manifestare il proprio punto di vista. Lo scontro degli ultimi mesi non può non indurre a fare delle considerazioni dal nostro modesto osservatorio. Non è immaginabile tanto per cominciare, ancorché sia entrata in politica solo da un anno e mezzo, che Francesca Valenti non prevedesse che l'azzeramento della sua prima giunta avrebbe generato delle conseguenze politiche di una certa consistenza. Difficile pensare che abbia sottovalutato le inevitabili reazioni ordinate e contrarie. Fatto sta che alla platea di avversari naturali, che sono quelli dell'opposizione, adesso si sono aggiunti diversi ex sostenitori. Conseguenza, una consigliera, Carmela Sant'Angelo, è passata all'opposizione. Un'altra, Cinzia Deliberto, non l'ha fatto ma sostanzialmente poco cambia. Un terzo, Paolo Mandracchia, non lo farà, ma da lui non si possono più pretendere spinte motivazionali particolarmente significative. Sulla base di questo scenario è considerato che in politica a comandare sono i numeri, negare che non ci sia più una maggioranza è un esercizio di stile perfettamente inutile, ancorché l'assottigliamento del gap tra schieramenti determinato dalla riduzione del numero dei consiglieri sia un elemento oggettivo. A fronte di questa situazione il rischio è quello dell'immobilismo ed è deprimente per la collettività a prendere di un quadro politico quello attuale che addirittura costringerebbe la coalizione di governo a preferire di non andare in aula pur di evitare la bocciatura del ripienamento del disavanzo del comune. È venuta fuori una sorta di apoteosi, di un conflitto improntato sulla presunzione reciproca da un lato quella del sindaco che fatica a piegarsi di fronte all'opposizione a concedere ciò che eppure non sarebbe ignominioso concedere. Dall'altro però c'è la presunzione della minoranza senza generalizzare quella che pretende che il sindaco sostanzialmente umili se stessa andando perfino al di là del più avvilente cospargimento del capo di cenere. La verità ragionevolmente sta sempre nel mezzo perché se da un lato il primo cittadino dovrebbe prendere atto di una realtà che ancora una volta sta vedendo il centrosinistra sotto la brutta luce di una coalizione che non riesce a governare dall'altro lato appare inconcepibile immaginare che la minoranza attenda al varco all'esecutivo non escludendo eventualmente di bocciare come temuto da Francesca Valenti un punto come il risanamento del comune come se gli esponenti dell'opposizione vivessero su Marte e non in quel comune che chiede di essere risanato. Una realtà che oggi può far dire benissimo che non è possibile, parafrasando lo slogan di Francesca Valenti pensare ad altri tre anni così. C'è chi paventa la soluzione drastica il ricorso ad una possibile mozione di sfiducia cosa che Sciacca ha già sperimentato una ventina d'anni fa corsi e ricorsi storici, gli stessi che vedono sempre chi vince le elezioni dimenticare subito i festeggiamenti e cominciare a chiedere la luna in tal senso che non l'ha fatto, scagli la prima pietra eppure qualcuno la prima pietra potrebbe serenamente scagliarla sono quelli di Mizzica, più giovani ma evidentemente anche più saggi anche dal Movimento 5 Stelle sono pronti a proporsi per governare la città e questo malgrado va detto tra i grillini come tutti sanno non siano rose e fiori. E andrà in onda oggi sulla nostra emittente l'ottava puntata di Vespera al Cinema si parlerà del boom della Lega di Salvini in Sicilia e a Sciacca e delle ragioni di questo successo vediamo un breve estratto della puntata curata e condotta come sempre da Massimo D'Antoni il siciliano che decide di dare il proprio consenso alla Lega come se lo spiega? è un retaggio dal punto di vista antropologico? Intanto è un problema di coscienza politica i meridionali probabilmente perché tenuti storicamente in una condizione di inferiorità, di subordinazione alla questione meridionale non è che l'hanno inventata adesso è da secoli che esiste non è mai stata colmata da nessun partito Certo c'è questo messaggio securitario io è stato detto tante volte alimento la paura cavalco la paura faccio della paura la ragione del consenso Il tema dell'immigrazione non è il tema di Salvini è il tema di un'intera nazione che negli anni non ha visto quelle adeguate risposte che comunque la cittadinanza si aspettava Il vero problema della lega di Salvini è se ricalcheranno quelle orme del partito uomo del partito uomo immagine che negli ultimi 30-40 anni Questi che mettono il nome sul simbolo che lo fanno tutti e quindi anche loro in questo avrebbero una loro grande debolezza Lega Salvini è marketing riesce nell'impresa geniale di trasformare i like in voti crea un prodotto crea un bisogno La Lega Nord era Bossi ma se noi andiamo al passato tutta questa personificazione con Bossi non c'era c'era semmai la personificazione ovvero l'associazione con noi siamo la rottura siamo lontani da Roma Ladrona Però Salvini non parla dei 49 milioni della Lega cioè ratezzati in 96-76 anni se non ricordo c'è il gioco a parlare alla pancia delle persone perché è un gioco dire alla città, dire alla nazione quello che si vuole sentire dire invece una politica responsabile deve dire alla città, alla nazione quello che è giusto perché la Lega è così forte perché succede quello che sta succedendo io in estrema sintesi credo che tutto questo dipenda dalla qualità della rappresentanza politica Il presupposto da cui parte questa importante percentuale della nostra comunità che ha deciso stranamente di fare questa scelta così drastica se effettivamente sia comunque dettato da un'insoddisfazione oppure è stata in realtà una piena consapevolezza di scegliere e quindi di votare quello che per tanti potrebbe essere un progetto magari non tanto appropriato piuttosto che invece crederci veramente e quindi nella piena consapevolezza decidere di dare spazio diciamo ad una novità La battaglia per l'ospedale di Sciacca e il Giovanni Paolo II dovrà avere le stesse se non più risolse del Giovanni di Dio di Agrigento Questo è l'obiettivo del Comitato Civico per la Sanità che ha programmato nuove iniziative Sentiamo l'intervista a Lignazzo Cucchiara Avvocato Cucchiara la battaglia per l'ospedale naturalmente non si ferma c'è stato un incontro recentemente con i parlamentari regionali e poi come Comitato avete incontrato il Sindaco quali sono le novità? Piena disponibilità per la lotta che dovremo intraprendere con il nuovo Direttore Generale appena si concluderà sia pure dal punto di vista formale questo lungo iter dell'approvazione della nuova rete ospedaliera che vede Sciacca come dea di primo livello come Spock Prima Sciacca era un ospedale diciamo satellite al pare degli altri ma oggi non è più così oggi seguendo il criterio della territorialità si sono convinte e questa è la lotta che ha portato avanti il Comitato che in questa zona, in questo bacino di utenza c'era necessario un ospedale Spock quindi riprendendo un po' il ruolo che Sciacca aveva come azienda ospedaliera e allora se le cose stanno in questi termini le risorse economiche, le attrezzature, il personale vanno quantomeno divise al 50% anzi si diceva in una riunione tecnica di qualche giorno fa che le esigenze del nostro bacino di utenza sono addirittura superiore perché non solo gli utenti dell'ospedale di Sciacca diciamo risiedono anche in altre province ma il punto di riferimento come ospedale di livello superiore è a oltre 90 km viceversa Grigento si trova con l'ospedale di Caltanessetta che è idea di secondo livello e lo stesso ospedale di Gela che è di tipo uguale a quello di Sciacca quindi tutto sommato noi per garantire in termini di intervento, di emergenza il servizio previsto dalla legge è necessario che ci siano date delle risorse nuove, aggiuntive rispetto al passato e non inferiore a quelle assegnate ad Agrigento il sindaco di Sciacca ha dichiarato la piena disponibilità lei vuole, così come aveva fatto il suo predecessore condividere e gestire direttamente quindi il sindaco e il comitato questa iniziativa che verrà coinvolta l'intera cittadinanza attraverso un'iniziativa pubblica alla presenza di tutti i sindaci voi invocate l'unità delle forze politiche ma capisco anche della cittadinanza ma non teme che ci possa essere il rischio che vada come con le terme? la partita si gioca proprio in questi termini se noi non riusciamo a capire che erediteremo di questa città le ceneri perché questo è il passaggio è uno spettacolo per cui noi facciamo la domanda perché il populismo? per questo cioè è una classe politica chiamiamola così è incapace di confrontarsi sul piano degli interessi della città chi fa politica deve avere amore per la città lei immagina che sulla falsarica del comitato civico-sanità possa risorgere perché c'era un comitato a difesa delle terme possa rinascere? ma io penso di sì perché questo è la cosa più quando io sento parlare delle terme di Montevago mi inorgoglisco perché è una realtà bellissima accanto ma le nostre terme dove sono andate a finire? io potrei dire io sono il sindaco al quale non è riuscito il tentativo e quindi ecco guardare dall'alto e ridere ci guarda un po' e invece non è così bisogna mettere a accantonare le ragioni più o meno buone che ognuno di noi può accampare e guardare per il bene della città certo che le terme se c'è un'azione forte la regione non potrà scherzare più Trivellazioni petrolifere la situazione nel canale di Sicilia sta diventando sempre più allarmante parte del sito del ministro economico è oscurato e non ci permette di raccogliere informazioni per tutelarci denuncia Mario Di Giovanna attivista del comitato stoppa la piattaforma in un solo giorno ieri il governo ha dato il via libera a ben 18 permessi di ricerca chiediamo una commissione d'inchiesta che indaghi sulle autorizzazioni palesemente irregolari che abbiamo scoperto negli ultimi anni conclude Di Giovanna sentiamo Mario Di Giovanna per quanto riguarda le Trivellazioni petrolifere in mare sembrano esserci novità non proprio positive sì come comitato noi monitoriamo quasi mensilmente vari bollettini uffici ministeri e quant'altro e proprio nella giornata di ieri abbiamo avuto una amarissima sorpresa il ministero dell'ambiente ha rilasciato in una sola giornata il 10 di dicembre la bellezza di 18 provvedimenti di ottemperanza per altrettante concessioni di coltivazione o permessi di ricerca petroliferi da quasi un decennio di attivismo e di questo lavoro di monitoraggio che facciamo non avevamo mai visto una cosa del genere c'è così tanti provvedimenti tutti rilasciati in un giorno se a questo aggiungiamo il fatto che abbiamo grossissime difficoltà a verificare a capire che cosa sta succedendo nel nostro mare perché è da più di un mese che il sito del ministero dello sviluppo economico nella sezione in cui noi andavamo a guardare questi permessi come erano fatti come erano rilasciati se andavano avanti è stata oscurata dal sito del ministero dello sviluppo economico e nonostante le nostre ripetute richieste ancora non è stata rimessa rimesso online sì dire che siamo preoccupati è dire veramente poco per quello che è possibile sapere per quanto riguarda l'audax energy e le intenzioni di trivellare tra sciacca e pandelleria ci sono aggiornamenti in realtà no a parte le interrogazioni parlamentari che sono state prontamente presentate dalla senatrice De Petris gruppo misto e dall'onorevole Michele Catanzaro all'Ars no non abbiamo avuto altre novità sappiamo che c'è questa società che dice di avere degli accordi con il governo italiano con il ministero il sito del ministero sviluppo economico è oscurato quindi le verifiche che facevamo quasi giornalmente e puntualmente non le possiamo andare a fare quindi non sappiamo se è vero questo accordo non è vero questo accordo se la scusa sta andando avanti se hanno delle autorizzazioni non sappiamo assolutamente nulla e quando si ha difficoltà ad avere a recepire informazioni chiaramente la preoccupazione sale sale di parecchio parlate con i comitati fate intanto una riunione e chiedeteci qual è lo stato reale delle cose e chiedeteci cosa c'è da fare per andare a risolvere intanto la prima cosa rimesso online nel sito del ministero sviluppo economico il secondo punto un decreto legge d'urgenza che blocchi il rilascio di nuove istanze permessi a trivellare permessi di di ricerca questo per un periodo limitato di tempo tre mesi sei mesi un anno il tempo che servirà al Parlamento a fare una nuova legge sulle trivellazioni petrolifere che non sia totalmente avvantaggio dei petrolieri ma sia finalmente una legge equilibrata che tuteli la nostra economia e il il nostro ambiente la terza richiesta è una commissione d'inchiesta perché abbiamo dimostrato negli anni attraverso le nostre denunce attraverso le inchieste attraverso tutto che tutta una serie di permessi di ricerca e coltivazione che sono stati rilasciati hanno delle evidenti mostruose irregolarità noi vogliamo sapere perché ci sono state queste irregolarità quindi se c'è qualche mela marcia all'interno dei ministeri vogliamo che queste vengano prese e denunciate alle autorità costituite e se alcuni permessi sono stati come crediamo noi effettivamente rilasciati con irregolarità e noi vogliamo che vengano ritirati c'è anche la città di Sciacca nella nuova guida turistica realizzata dal touring club e dall'associazione italiana città della ceramica in cui vicepresidente è il sindaco Francesca Valenti la pubblicazione sarà adesso presentata a Milano in tutte le città che vantano una tradizione della ceramica e quindi prossimamente anche a Sciacca per il sindaco Valenti si tratta di una grande opportunità di promozione della città e di sostegno all'arte ceramica saccense ne parliamo in questo servizio di Noemi Tummioli una ceramica di splendidi colori che rispecchia la storia viva e ricca della più antica città termale della Sicilia è così che viene presentata la ceramica di Sciacca e la città inserita nella nuova guida turistica realizzata dal touring club e dall'associazione italiana città della ceramica sono 40 le città inserite nella pubblicazione presentata ieri a Roma a Palazzo Giustiniani alla presenza del sindaco di Sciacca Francesca Valenti vicepresidente nazionale dell'associazione italiana città della ceramica una guida prestigiosa del touring club che riguarda tutte le città della ceramica dell'antica tradizione ceramica è una guida che è stata fatta dal touring club per collaborazione con l'associazione italiana città della ceramica di cui Sciacca in questo momento è vicepresidente alla vicepresidenza e verrà è importante perché ovviamente ha una rilevanza turistica notevole verrà presentata a Milano alla sede centrale del touring club verrà presentata in tutte le città della ceramica quindi Sciacca io ho dato ampia disponibilità ad avere pure il diciamo questa mostra itinerante che per ora è all'estero che riguarda tutte le produzioni artistiche delle città della ceramica e perciò devo dire che è un grande risultato per il sindaco Valenti la presenza della città di Sciacca nella nuova guida turistica realizzata dal touring club è una grande opportunità per la promozione della città questa guida oltre a essere su tutti ovviamente i siti touring club viene anche promossa dal touring club quindi fanno loro pubblicità a queste città e quindi faranno pubblicità anche a Sciacca sarà in tutte le librerie e soprattutto sarà oggetto di diverse conferenze stampa in cui si farà promozione della città della ceramica dobbiamo ricordare che in questo momento la ceramica è l'attenzione di tutti quanti è l'attenzione dell'Unione Europea tra gli altri ha una grande attenzione dal punto di vista internazionale e perciò poter avere nella nostra città una grandissima tradizione ceramica ci aiuta anche non soltanto per il settore ceramico ma anche per la promozione turistica in genere e durante l'assemblea dell'associazione che si è svolta alla fondazione Dosturzo si è anche parlato delle iniziative che le città della ceramica intendono promuovere oltre alle iniziative diciamo a questo punto in calendario come Buongiorno Ceramica che verrà riproposto ci sono altre iniziative internazionali che riguardano fiere internazionali in Francia poi c'è un discorso e un progetto molto ampio che riguarda la Cina e altri progetti che verranno portati avanti all'interno dell'associazione europea della città della ceramica perché in questo momento la presidenza è italiana e perciò il senatore Coltina si sta facendo promotore di diverse progettualità Tornerà a riunirsi il 18 dicembre il Consiglio Comunale di Ribera diversi punti all'ordine del giorno la rideterminazione dei compensi al Collegio dei Revisori dei Conti per l'anno 2018 e il sorteggio dei nuovi revisori per il triennio 2018-2021 l'approvazione del progetto di fattibilità per la ristrutturazione del campo di calcio Nino Novara l'aggiornamento del contributo di costruzione per l'anno 2019 il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio e le interrogazioni presentate dai consiglieri il Comune di Montevago tra i beneficiari dei contributi 2018 per interventi socioassistenziali finanziato per un importo pari a circa 160 mila euro il progetto denominato Integra Azioni tra le attività che si andranno a realizzare l'apertura di due centri polifunzionari per anziani bambini e famiglie sentiamo c'è anche il Comune di Montevago tra i beneficiari dei contributi del fondo UNRRA relativi all'anno 2018 per interventi socioassistenziali è intitolato Integra Azioni il progetto presentato dal Comune in partnership con le cooperative l'albero delle idee e la grande quercia l'importo complessivo del finanziamento è di quasi 160 mila euro sono previsti interventi socioassistenziali per le famiglie più bisognose per gli anziani e per i bambini con il progetto Integra Azioni saranno aperti due centri polifunzionali per bambini e anziani che offriranno accoglienza e supporto a tutta la famiglia favorendo attività di recupero del disagio sociale i centri apriranno le porte a famiglie che necessitano di sostegno e aiuto sociale ponendosi come luogo d'incontro per la vita di relazione sostenendo la famiglia e sottraendo gli anziani dall'abituale senso di solitudine diversi servizi che saranno offerti mensa trasporto con il taxi sociale segretariato sociale dopo scuola assistenza sociale psicologica destinata ai bambini agli anziani e alle famiglie il servizio sarà garantito a 25 famiglie e si svolgerà dal lunedì al venerdì per la durata di un anno il progetto prevede di implementare il servizio micronido e di sviluppare azioni di sostegno educativo rivolte a 10 minori di età compresa tra i 3 e i 10 anni di accogliere tramite un servizio diurno all'interno della casa di riposo 10 anziani ultra 65 anni durante l'anno saranno poi organizzate feste in occasione delle principali festività si faranno attività di giardinaggio e si realizzeranno attività socioculturali a favore delle famiglie è un progetto nuovo dice il sindaco di montevago margherita larocca ruvolo che va ad integrarsi agli altri che stiamo portando avanti in materia di politiche sociali in questa iniziativa una grande attenzione viene rivolta ai bambini e quindi alle famiglie di montevago che potranno beneficiare di nuovi servizi socioassistenziali conclude il sindaco manifestazione antimafia lunedì 17 dicembre a Lucca Sicula l'associazione libera alla presenza del fondatore Luigi Ciotti ricorderà l'imprenditore Giuseppe Borsellino a 26 anni dal suo omicidio l'iniziativa è stata denominata costruiamo memoria generiamo impegno la società di Lucca Sicula sta cambiando la gente ricorta mio padre e mio fratello Paolo uccisi dalla mafia ci dimostra solidarietà e affetto il commento ai nostri microfoni di Antonella Borsellino sentiamo l'associazione libera nella ricorrenza del 26esimo anniversario dell'omicidio di Giuseppe Borsellino per mano mafiosa ha promosso l'incontro costruiamo memoria generiamo impegno che si terrà lunedì 17 dicembre alle ore 11 presso la sala Polivalente in piazza Vittorio Emanuele a Lucca Sicula interverranno Don Luigi Ciotti fondatore e presidente di Libera Salvatore Vella procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Agrigento e il giornalista Alan Scifo lunedì ricorderemo il 26esimo anno dell'omicidio di mio padre è avvenuto a Lucca il pomeriggio del 17 e con Libera ricorderemo questo momento che da quel giorno la nostra vita è cambiata mia di mio fratello di mia mamma è cambiato tutto e quindi noi con quelle persone oneste di Libera di Lucca Sicula che sicuramente saranno presenti avremo questo momento di ricordo un momento che in questo momento è ancora più sofferto noi durante i sei anni lottiamo contro una burocrazia che si accanisce contro la mia famiglia non si riesce a capire bene il perché ogni qualvolta cerchiamo di cercare o di trovare la verità c'è sempre qualcosa un ostacolo quindi la nostra battaglia non è mai finita è un continuo lavorio per la famiglia di sofferenza continua noi di una cosa siamo certi e anche le persone io mercoledì sono stata a Lucca e la cosa che mi ha riempito di gioia e felicità ero con la responsabile provinciale di Libera tutta la gente onesta di Lucca che si avvicinava e diceva noi ricordiamo sempre Peppe Bostellino perché era una persona buona onesta e un lavoratore quindi al di là di quello che la prefettura vuole intendere perché noi non abbiamo niente di ufficiale per noi mio padre era ed è perché è sempre accanto a noi una persona onesta un grande lavoratore e ti dico la cosa più bella è il ricordo dei paesani che riaffiora che lo ricordano questo non pensavamo che mio padre fosse stato dimenticato non è vero io in questi giorni andando a Lucca per organizzare questo ricordo voglio chiamare ricordo perché non è una manifestazione abbiamo avuto tanti attestati veramente di affetto che pensavamo che non ci fosse ci siamo ricreduti quindi lunedì Don Ciotti sarà accanto a noi avremo l'amico di sempre Salvatore Vella avremo Adara Scifo che in quest'ultimo periodo si è molto avvicinato a noi come famiglia libera quindi per me è un momento di ricordo di una persona onesta di un grande lavoratore che ha perduto la vita per il grande amore verso il figlio verso il mio Il Pirandello Dimenticato è il titolo del volume scritto a quattro mani dal nipote del drammaturgo egrigentino Pierluigi Pirandello recentemente scomparso e dal saccenza Alfonso Veneroso libro ieri presentato alla sala della libreria Mondadori di Sciacca che porta il nome proprio di Pirandello vediamo Un Pirandello diverso quello illustrato nel libro presentato ieri alla libreria Mondadori di Sciacca nella sala intitolata proprio al premio Nobel agrigentino per la letteratura uno dei più celebri scrittori e drammaturgi del novecento è una testimonianza diretta quella presentata nel Pirandello Dimenticato poiché a parlare dello scrittore Pierluigi Pirandello nipote del drammaturgo venuto a mancare pochi mesi fa un libro che aveva scritto assieme ad Alfonso Veneroso attore saccenze presente ieri all'incontro moderato dalla giornalista Teresa Di Fresco c'erano anche Filomena Capobianco e Giovanna Carlino moglie di Pierluigi Pirandello che ha introdotto il volume l'ultima presenza di Pierluigi a Sciacca fu in occasione dell'inaugurazione di questa saletta dedicata al nonno Luigi e proprio in questa circostanza Pierluigi ha conosciuto come diceva Pocanzi il notario raso l'artista Alfonso Veneroso Alfonso Veneroso in veste di intervistatore ha scritto con Luigi quella che oggi è l'autobiografia di Pierluigi del padre Fausto e del nonno Luigi sentendosi un po' imprigionato dal ruolo di avvocato Pierluigi temeva di non riuscire a scrivere e aveva bisogno di un ego ausiliario che possibilmente fosse uomo e artista nello stesso tempo com'è Alfonso Veneroso anche gli avvocato ma anche artista in fondo mio marito per via di mia suocera Pompilia non riusciva ad esprimere le sue vere passioni è stato sempre perseguitato da una figura materna minacciosa invadente indifferente se non ostile all'espressione della sua vera personalità forse per Pierluigi questo libro ha avuto una funzione catartica che gli ha permesso di liberare almeno in parte anche se un po' tardivamente i suoi intimi sentimenti attraverso il racconto della vita in perfetta corrispondenza con quella del padre il libro raccoglie una lunga intervista a Pierluigi l'ultimo della famiglia ad avere conosciuto il nonno Luigi al quale la sua nascita fu a lungo taciuta interpretata ieri da Alfonso Veneroso ma come non sa nulla Fausto non mi ha scritto dell'incarico che mi ha dato no Fausto non mi ha scritto nulla perché incarico ma come di andare a vedere suo figlio il suo figlio che figlio il figlio di Fausto il figlio di Fausto Fausto ha un figlio ma si qui a Parigi con sua madre madre ma io non so nulla Fausto non mi ha mai parlato delle sue relazioni amorose a Parigi né altrove e tantomeno di un figlio che da queste relazioni possa essere nato ma lei che faccio e adesso la rubrica il libro del giorno nel momento in cui forze politiche oscurantistiche prendono il sopravvento in Italia e in larga parte d'Europa giova a interrogarsi sul moto storico il suo andamento può sprofondarci in deprimenti bassure o innalzarci verso affrettate illusioni tra il cupo fatalismo persuaso dell'eterno ritorno e il pervicace ottimismo degli assertori di inarrestabili sorti progressive la lezione che ci viene dalla storia è che dopo l'esaurirsi di una rivoluzione maturano immancabilmente le condizioni per una nuova scossa di quelle che a Don Abbondio apparivano salutari colpi di scopa la scopa di Don Abbondio di Luciano Canfora edito la terza Cultura un fine settimana ricco di appuntamenti al Circolo di Cultura di Sciacca oggi pomeriggio alle 18.30 alla presenza del sindaco di Gibellina Salvatore Sutera sarà inaugurata una mostra sulla cittadina del Belice con l'esposizione delle opere di due artisti Franco Accursogolino e Vito Faraci Urso domani invece continua la rassegna culturale Abonnanza con il concerto di My Christmas Soul dei due appuntamenti e ci parla in questa intervista Tony Russo Tony Russo stasera inaugura una mostra dedicata a Gibellina una mostra che vedrà protagonisti due artisti da cosa nasce questo evento? Allora questo evento nasce da un momento così conviviale con l'architetto Michele Benfari che conosceva già questa mostra fotografica e quando ho visto diciamo le immagini mi sono innamorato immediatamente perché gli scatti di questo giovane fotografo sono assolutamente eccezionali insomma danno l'idea di un quadro più che di monumenti che contiene la città di Gibellina tutti monumenti di arte contemporanea di architettura contemporanea quindi lui Vito Faraci Urso ha fatto questo percorso qualche anno fa giovanissimo lui è un ventenne diciamo e quindi abbiamo voluto fortemente questa mostra è una mostra che vede protagonista anche Accursio Gulino che vede il tabularium che cos'è? Ebbè Franco Accursio Gulino in pratica diciamo è stato coinvolto in questa mostra e lui è stato molto contento di partecipare perché il tabularium ha fatto parte di una importante mostra del 2003 che lui aveva organizzato grazie a Ludovico Corrao il compianto sindaco di Gibellina e che quindi racchiude diciamo quel momento di Gibellina legato proprio a Franco Accursio Gulino Le iniziative non si fermano qui al circolo di cultura domani ci sarà un evento con sullo sfondo questa mostra Sì prima di parlare anche dell'evento di domenica volevo anche dire che questa mostra è stata anche oggetto di un'alternanza scuola lavoro con il liceo artistico di Sciacca cioè una nostra classe ha preparato il materiale per quanto riguarda le brochure e altro e poi ha incontrato Anthony Bentivegna ha incontrato Calogero Di Leo ha incontrato Tanino Bonifacio che sarà con noi anche questa sera per la presentazione proprio per imparare a impaginare una mostra e questo è stato un bel lavoro che mi è piaciuto essendo anche io insegnante del liceo artistico poi per quanto riguarda domenica alle 18.30 per la nostra segna abundanza abbiamo un concerto si chiama Christmas Soul ed è un concerto di giovanissimi che propongono una chiave assolutamente nuova e quelli che sono le canzoni di Natale ma in maniera assolutamente diciamo inimmaginabile a che ora è l'appuntamento? L'appuntamento domenica alle 18.30 e questa sera per la mostra la stessa cosa alle 18.30 il musical aggiungi un post a tavola è stato proposto ieri nel salone della chiesa del Sacro Cuore dalla scuola secondaria di primo grado Agostino Inveges da quest'anno ad indirizzo musicale lo spettacolo ha visto la partecipazione anche degli studenti delle classe quinte delle scuole primarie di Sciacca al termine dello spettacolo si è svolta la premiazione del concorso i diritti in gioco indetto dalla scuola Inveges Presepe vivente alla chiesa dei cappuccini di Sciacca a cura dell'istituto comprensivo Dante Lighieri coinvolti gli alunni i genitori e i docenti delle classi E ed F del plesso San Francesco Primo appuntamento lunedì 17 dicembre alle ore 16 e 30 fino alle 19 e 30 Dal 18 al 20 dicembre il Presepe vivente verrà allestito sia la mattina dalle 9 alle 13 sia il pomeriggio Ultimo giorno di Presepe il 22 dicembre dalle 17 alle 20 E concerto di Natale dell'Ensemble Scaturro due gli appuntamenti in programma nei prossimi giorni l'orchestra del coro dell'istituto comprensivo Dante Lighieri si esibiranno alla chiesa di San Michele mercoledì 19 dicembre alle ore 20 e alla chiesa della Perriera venerdì 21 dicembre sempre alle ore 20 le due iniziative rientrano nel progetto Natale e nell'aria 13 allievi di età compresa tra gli 8 e i 13 anni dell'associazione Passione Tennis Chacca parteciperanno domani ad egrigento presso il Circolo dei Templi a Fit Junior Program attività promossa dalla Feder Tennis dell'ambito dell'avviamento e perfezionamento della pratica del tennis si tratta di un nuovo sistema nazionale di valutazione didattica e di certificazione della qualità dell'apprendimento con cui gli organismi tecnici federali puntano a considerare un sistema Italia con livelli di gioco identificati gruppi omogenei di lavoro tornei adatti alle conoscenze degli allievi e una maggiore fidelizzazione dell'attività tennistica federale gli allievi di Passione Tennis Chacca che parteciperanno alla manifestazione sono Teresa Bilello Vincenzo Scorsone Marco Alba Federico Borsellino Serena Caltagirone Filippo Puccio Andrea Saieva Gabriele Arrigo Francesca Abate Alessio Alba Leonardo Fauci Aurora Caltagirone e Chiara Bonifacio i ragazzi saranno accompagnati dal tecnico armenio dei dirigenti di Passione Tennis e questa era l'ultima notizia io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon fine settimana le görfei a presto e poi fermi a presto 24